Ma ecco che il Signore, cercando un lavoratore della sua volontà nella folla degli uomini, rivolge a tutti questo appello. Chi è colui che ama la vita e vuole vivere felicemente? Non c'è niente di più grande, più bello, più degno di adorazione della presenza reale del Figlio di Dio fatto carne, nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia. Nel cuore della Chiesa Nostra Madre, i monaci e le monache di San Giuseppe hanno sentito la chiamata a non preferire nulla a Cristo presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare, a consacrare tutta la loro vita alla lode della gloria, della sua grazia, nei voti religiosi di obbedienza, castità e povertà. Nel cuore della nostra spiritualità risuona il termine misericordia, il mistero del cuore di Dio che si piega sulla miseria degli uomini. La nostra famiglia di San Giuseppe è nata dalla convinzione che la piccola via della santità quotidiana è accessibile a tutti, anche ai più feriti tra noi, poiché è Dio stesso che risveglia questo desiderio nel profondo della nostra coscienza. I monaci e le monache di San Giuseppe scelgono San Giuseppe come padre abate e la Vergine Maria come madre badessa dei loro monasteri in perpetuo. prendano a cuore tutti i misteri della vita del Verbo incarnato che diffondono durante la giornata per imitare il loro Signore. I fratelli e le sorelle di San Giuseppe di San Giuseppe si impegnano nella predicazione di ritiri ed esercizi spirituali e nell'educazione religiosa di bambini e adolescenti, ma anche nel servizio parrocchiale, nell'approfondimento della fede degli adulti, nella preparazione ai sacramenti, nell'accoglienza delle persone sole o malate, cercando in tutti questi ministeri di presentare la fede cristiana soprattutto come rivelazione dell'amore misericordioso in Gesù Cristo, nostro Signore. I fratelli e le sorelle laici si incontrano in fraternità per momenti di ascolto della parola, di preghiera e di condivisione. Ognuno può trovare un percorso adatto alle sue necessità spirituali e umane, secondo la fase che sta attraversando. Ogni estate, i membri della famiglia di San Giuseppe si riuniscono per momenti di celebrazione e formazione per approfondire la loro fede in Gesù Cristo in un ambiente familiare. Grazie. Grazie.